Le cronache di questi giorni ci hanno raccontato di alcuni volontari dei Vigili del Fuoco responsabili loro stessi dei roghi che poi andavano a domare. Sul tema interviene Andrea Bindi, segretario provinciale del CONAPO, il sindacato dei Vigili del Fuoco. La componente che viene definita erroneamente volontaria, dichiara Bindi, nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, non è altro che un servizio reso a pagamento da persone legalmente preparate e riconosciute dal Ministero come Vigili del Fuoco volontari. Essi sono chiamati a intervenire solo e soltanto nel momento dell'immediatezza dell'intervento di competenza nelle loro zone, esistono praticamente in ogni provincia d'Italia. Vengono arrivati, continua Bindi, tramite chiamata dalla sala operativa del Comando Provinciale e prendono servizio se disponibili, da qui l'unica volontarietà e da quel momento retribuiti con compenso orario fino al termine dell'emergenza sia essa un incendio o la più banale delle richieste. Questo fa capire come funziona il sistema, nessuna presa di distanza da chi regolarmente svolge ogni giorno il proprio servizio che definiremo ancora assurdamente volontario e che sarebbe meglio invece definire a chiamata. Secondo Andrea Bindi, inutile dire che sindacalmente e personalmente la mia posizione sarebbe per un Corpo Nazionale totalmente permanente. Non è questa la sede per le polemiche. In questo caso come uomini e come vigili del fuoco siamo tutti uniti nel prendere le distanze da elementi deviati che non possono essere definiti altro che criminali.